Siamo ritornati, eccoci qua, auguriamo a tutti voi innanzitutto un splendido 2024. Facciamo un piccolo resoconto di come ci siamo lasciati nell'anno scorso, è stato un anno comunque sia di grandi soddisfazioni e pieno di novità. Vi ricordiamo che all'interno del nostro gruppo, verso fine dell'anno, abbiamo presentato proprio delle novità pazzesche. Real Estate on Air, che è praticamente il nuovo sistema in modo tale che voi possiate vedere in anteprima, in esclusiva e con i nostri occhi tutti i nostri immobili. Abbiamo aperto appunto il nuovo canale anche di Regatti Locazioni, dove potrete trovare sia Alex che Pierre Altimone, che gestiranno appunto questa nuova attività. Sempre con le locazioni nella nostra sede di Tarvisio, abbiamo aperto anche Tarvisio B&B. Questo è veramente una grandissima novità, perché finalmente ci occuperemo anche della gestione di affittanze turistiche e brevi in tutta la zona del Tarvisiano. Un'ultima novità, assolutamente non da meno, è il canale WhatsApp della Regatti Group. Nel primo commento sotto questo video potrete trovare il link per iscrivervi. Fatelo, perché lì metteremo tutte le anteprime, tutte le foto e diciamo che tutti i nostri clienti che seguiranno questo canale verranno avvisati per primi anche degli immobili che verranno pubblicati addirittura settimane dopo. Ricapitolando, tutte le novità che abbiamo iniziato nel 2023 le troverete cliccando sul sito regattigroup.it. Rimanete aggiornati, perché anche quest'anno sarà sicuramente un anno all'insegna di ulteriori novità, sia in ambito tecnologico che in ambito lavorativo. Rimanete aggiornati, perché anche quest'anno sarà sicuramente un anno all'insegna di ulteriori novità, sia in ambito lavorativo, sia in ambito lavorativo, sia in ambito lavorativo, sia in ambito lavorativo. Grazie per la visione!